ciao creatura io sono ecca di splendente e benvenuta o bentornata nel regno di guzzai e s m a a hi creator i shining and welcome or welcome back to the kingdom of guzzai a s m a a today eh no oggi ti propongo questo gioco indovina l'oggetto today i propose this game to you guess the object quindi chiudi gli occhi rilassati rilassati close your eyes relax partiamo con il primo let's start with the first st Grazie a tutti. 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 Number three. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono numero 4. Sound number 4. Grazie a tutti. 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 Suono numero 5. Sound number 5. Grazie a tutti. 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 numero 6. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.